come tutti noi sappiamo quando si compra una macchina usata tipo non so stiamo guardando degli annunci su subito oppure stiamo andato in una concessionaria in modo così molto casuale abbiamo bisogno di una macchina usata abbiamo bisogno di qualcosa una macchina una moto un camion un elicottero qualsiasi cosa l'elicottero forse un po eccessivo guardiamo gli annunci dell'usato andiamo nelle concessionarie vediamo appunto le macchine di solito si va su subito autoscout dipende vediamo appunto le macchine e diciamo ma i chilometri di queste macchine sono veri o sono tirati indietro perché è difficile capirlo magari a volte sono sprovviste dal libretto dei tagliandi non si capisce quando fate tagliandi il libretto dei tagliandi è sparito quindi si hanno delle incertezze non si sa se realmente sono quelli chilometri certo ma che non lo so è difficile molto difficile ma fortunatamente il portale dell'automobilista che è un sito appunto del ministero dei trasporti quindi un sito ufficiale del governo italiano del nostro stato una delle cose che funziona secondo me molto bene il portale sto dicendo ha introdotto una funzione molto molto utile ma quanto sconosciuta da tutti perché nessuno se ne rende conto che permette di capire quanti chilometri aveva la macchina all'ultima revisione perché come ben sapete quando fate la revisione alla macchina il tipo che fa la revisione guarda guarda tutto guarda la macchina le luci eccetera eccetera le gomme eccetera eccetera ma guarda anche i chilometri che avete l'inserisce nel computer il computer che poi manda tutti i dati in un database appunto allo stato che tiene tutto segnato insomma grazie a questo sito a questa funzione che si trova allora basta andare sul portale dell'automobilista punto it ecco qua sito poi ve lo link anche qua sotto servizi online appoggiare il mouse su servizi online selezionare verifica ultima revisione e adesso è sufficiente mettere se è un autoveicolo un motoveicolo mettere la targa del veicolo e adesso vi faccio vedere cosa è sceso però mettere una targa a caso la oscuro per motivi di privacy perché l'ho trovata su internet non vi sembrava giusto e qua potete appunto vedere l'autoveicolo la targa che adesso qua è oscurata la data dell'ultima revisione ah beh l'esito che chiaramente è sempre regolare e il numero dei chilometri effettuati qui io sto comprando una macchina ad esempio guarda del 2000 non so nel 2015 ho fatto la revisione aveva 127.000 chilometri adesso ne ha magari non lo so o di più se ne ha di più va beh bisogna vedere se ne ha mille in più e la revisione l'ha fatta quasi due anni fa e mi puzza un attimino se ne ha di meno cioè si capisce che i chilometri sono stati tirati indietro quindi è una funzione che nessuno conosce ma volevo appunto farvela capire perché per evitare fregature per evitare che questa gente che tiri indietro i chilometri la passi sempre liscia perché non è una cosa corretta secondo me quindi vi ricordo il portale dell'automobilista servizio online verifica ultima revisione selezionate il tipo di veicolo mettete la targa e vi dà i chilometri esatti nell'ultima revisione quindi è un dato che non è né modificabile da nessuno né taroccabile quindi qua potete vedere quanti chilometri aveva nell'ultima revisione che massimo può essere due anni fa perché la revisione scade ogni due anni quindi una macchina di meno di quattro anni non potete vedere nulla perché la prima revisione si fa dopo quattro anni e poi ogni due quindi se comprate una macchina di cinque anni potete capire quanti chilometri aveva l'anno scorso molto semplice spero di esservi stato d'aiuto seguite il canale qua sotto fate iscriviti oppure qui dove compare adesso e anche un like se il video vi è piaciuto